Amici e amiche salve a tutti e ben ritrovati sul canale Oramai siamo in pieno inverno e come di consuetudine cerchiamo di scaldarci alla meno o peggio Qui nel video state vedendo due stufe comprate in annate differenti Quella a destra l'ho comprata 5 anni fa Questa qui a sinistra ha giusto un anno perché l'ho comprata l'anno scorso E come potete evidentemente notare voi stessi Il quadrato, l'elemento acceso in questo momento ha due colorazioni completamente differenti Cioè la stufa più nuova ha una colorazione più ardente, più forte E quella vecchia che ha oramai 5 anni ha una colorazione molto più blanda Cosa significa? Beh sicuramente vi posso dire per quello che è l'esperienza di prossimità che sto vivendo Che la stufa più nuova, la stufa più recente, quella che ha un anno E che ha questa colorazione abbastanza brillante dell'elemento riscaldante Emette molto più calore rispetto alla stufa vecchia Stufa vecchia che già l'anno scorso ha subito alcuni interventi che si sono rivelati Sì utili per allungarne un pochino la vita Però sto notando che oggi è arrivata proprio al termine Nel senso che già il discorso colorazione della fiamma è indice di una cattiva combustione Di quello che è il gas della bombola che l'alimenta Questa qui a sinistra produce una buona quantità di calore Quella a destra, la stufa vecchia, produce una fiamma Praticamente proprio di fronte all'elemento riscaldante Si sviluppa una fiamma alta fino a qui Non esce da quella che è la cornice Però vi assicuro che lambisce fin sopra il tettuccio di questa struttura Di questa cornice Cosa che non accade in quest'altra stufa Ora purtroppo ho provato a quantificare la temperatura Con il mio termometro digitale laser eccetera Però mi va fuori scala, ve lo dico direttamente Quello che è la mia impressione personale E' che questa qui, la stufa più recente Dia una buona qualità di calore Con un consumo di circa 100 grammi 100 grammi scusate Di gas ora Quindi quello che è l'indicazione del costruttore della stufa Bene o male lo rispetta per quanto concerne il consumo Quello che è la stufa a destra Mi dà l'impressione di un consumo ben più superiore Cioè quello che esce dalla bombola normalmente è limitato Regolato dal cappuccio che si collega alla bombola Quindi c'è un regolatore che dà se non erro 29 millibar di pressione al tubo che poi alimenta ciascuna di queste stufe Il regolatore è uguale e identico Solo che chiaramente 29 millibar si intende La pressione massima che può uscire dalla stufa In questo caso essendo aperto in ciascuna solo un elemento Si consumeranno circa 10 millibar di pressione Si sfrutteranno Lo so che non si misura così Ma per darvi un'idea proporzionale Quindi questa qui a sinistra Consuma 100 grammi l'ora Questa qui a destra secondo me ne consuma molti di più Proprio perché oramai i tre elementi sono andati Si sono consumati E dove si sono consumati? Vi dicevo l'anno scorso ho sigillato rateralmente questo rettangolo acceso Perché aveva delle perdite La cosa è andata bene Per tutto l'anno precedente Ha lavorato bene Solo che ora noto che la fiamma che esce Dai singoli forellini che compongono l'elemento acceso Protende molto all'esterno A differenza di questa dove la fiamma praticamente non esce Cosa si sviluppa? Quindi si sviluppa questo fuoco Che fuoriesce anche in maniera abbastanza copiosa Proprio perché i singoli forellini sicuramente saranno aumentati in diametro Producendo questa fiamma che calore ne dà veramente poco E chiaramente di contro Fa consumare gran parte della pressione Che passa tra il regolatore e il tubo della stufa stessa Quindi questa qui mi genera un super consumo Che questa non ha Mi genera meno calore E oltretutto a parte quello che è il punto del lato economico Considerate che queste stufe mediamente costano circa 50 euro cada una Al di là di quello che è il lato economico A non bruciare correttamente il gas Ogni gas ha una temperatura ideale di bruciatura Di combustione scusate Probabilmente va a rilasciare nell'ambiente In questo caso domestico Forse dei gas in combusti O forse dei gas mal bruciati Quindi potenzialmente tossici Potenzialmente più velenosi Rispetto a quello che produce una stufa nuova Ora vi voglio far vedere come Inserendo questo bastoncino Che altro non è che un bastoncino da zucchero filato Quindi è un legno abbastanza Che si brucia molto facilmente Molto economico Se lo metto qua sopra Tarda nel bruciarsi Se lo metto qui nella stufa di resta Si brucia molto rapidamente Perché proprio la fiamma Ha invaso tutta la parte superiore Ovviamente anche qui a sinistra Si andrà bruciando Perché la temperatura insomma È considerevole E allora facciamo subito questa prova Uno Due Tre Quattro Cinque Vedete Si annerisce Ma non ha preso fuoco Ora Per onestà Vado a girarlo In modo da Metterlo Nell'altra stufa E vi faccio vedere cosa accade Uno Due Tre Quattro Cinque Come vedete La bruciatura Sembra che sia Meno bruciato Però Qua sopra c'è una fiamma Vedete È un istante E si brucia Se andassi a mettere Questo qua Dall'altra parte Qui sopra Proprio non c'è una fiamma diretta Quindi Il pericolo È inferiore Quindi Se da un lato Possiamo avere Un consumo superiore Nella vecchia stufa E un consumo inferiore In quella più recente Dall'altra parte Abbiamo pure Una fiamma Che oserei dire Che oramai È libera Qui è come avere Un fornello Acceso Un fornellone Acceso Che butta fuoco Cosa che non accade In questa Perché qui Il gas Prodotto dalla bombola Va semplicemente A rendere incandescente A rendere ardente La placca accesa E lì si ferma Generando chiaramente Un calore Qui si genera Soltanto il fuoco E sapete Una lingua di fuoco Potrebbe comunque Arrivare a bruciare Qualcosa di vicino Ed essere estremamente Pericoloso Quindi Morale della storia Cosa vi consiglio? Beh sicuramente Quando una stufa Arriva a questo punto Scusate È il momento In cui Mandarla realmente In pensione Metterla di lato Dismetterla completamente E se Avete interesse Nel recuperare Componenti Farla a pezzi Perché Voglio dire Possiamo riciclare Molto Da questi Cassoni Da questi Scatoloni Metallici Dopo cinque anni Dopo un intervento Di manutenzione Importante Come è stato Sigillare Le paratie laterali Dell'elemento In questo momento Acceso Diciamo che Non c'è più Niente da Prendere Oramai È andata Una cosa curiosa Vi voglio far notare Ora accendendo Tutti e tre Gli elementi Della vecchia stufa Che probabilmente Questa è una prova Che sto facendo Seduta stante Con voi Probabilmente Questi due elementi A essere stati Utilizzati Meno Assumeranno Molto più probabilmente Il colore Della stufa Più nuova Proprio perché Gli ugelli Singoli ugelli Di riscaldamento Sono stati Sfruttati Meno Io normalmente Li utilizzo A potenza Uno Due Difficilmente La metto A tre E quindi È proprio L'usura Notevole Data Nel primo Elemento Che provoca Oramai Il completo Deterioramento Della stufa E la necessità Reale Anche di Buttarla A un certo punto Ora vedete Si stanno Accendendo Si stanno Riscaldando E stanno Assumendo Man mano La colorazione Classica Diciamo Arancione Ora Io continuerò A parlare Ovviamente Fino a quando Non avremo la possibilità Di notare Se c'è Una differente Colorazione Dei due elementi Laterali Rispetto A quello Centrale Mi interessa Farvi notare Che La fiamma Che esce Da quello Che è Il rettangolo Esce unicamente Da quello Centrale Quelle due Laterali Non originano Nessuna fiamma In eccesso Quindi Si Vi posso Già Dire Per quello Che si inizia A intravedere Che la colorazione Dei due elementi Laterali E molto simile Alla stufa Più recente Vedete Si Anche a video Si nota E quindi Il singolo elemento Praticamente Quello più utilizzato Perché È quello Che si utilizza Sia al minimo Che al massimo Fa sì Che oramai Tutto l'apparato Sia da Pensionare Una soluzione Potrebbe essere Quella di cambiare Soltanto i bruciatori Su ebay Su amazon Mi pare Che si trovi qualcosa E anche sul sito Di agri euro Se non erro Però I bruciatori Costano una ventina Di euro Tra Il costo Del ricambio L'invio E il fastidio Chiaramente Anche di dover Rimontare A regola d'arte Perché poi Con il gas Non si scherza Capirete Che non vale La pena Ecco Vedete È evidente Qua ci sono Due bruciatori Che funzionano Correttamente Che diventano Incandescenti E quello centrale Che semplicemente Dà luogo A una fiamma Libera Che calore Ne produce Veramente poco Quindi Amici e amiche Quando avete Una stufa vecchia Che già ha fatto La sua vita La cosa migliore È Semplicemente Dismetterla E Pensare Di comprarne Una nuova Come Come questa Che chiaramente Mi durerà I suoi due Tre Forse Quattro anni Se sarò fortunato Dopodiché Insomma La causa Dell'obsolescenza Programmata Purtroppo La vince E non potremo Fare altro Che comprare 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 Però L'importante È Sottolineare Tutto ciò In modo Che comunque Possiate garantirvi La sicurezza Nel vostro Luogo Nel vostro Domicilio Là dove state Utilizzando Questo tipo Di apparato E sempre Di sicurezza Parliamo Perché Vi voglio Suggerire Anche L'acquisto Di un rilevatore Di monossido Di carbonio Sono rilevatori Che funzionano A batteria Una batteria Solitamente Sono batterie Da 9 volt Quelle Quella forma Di parallelepipedo Piccolino Ma vanno anche Con le batterie Stilo Che si alloggiano Se non ricordo bene Ecco Questa va Con le stilo Va Con tre stilo Di tipo AA Io di questi Rilevatori Già ne ho Tre quattro Per casa Uno Per ogni Stanza Nel momento In cui Si rileva Un eccesso Di monossido Di carbonio Un gas Provocato Velenosissimo Provocato La combustione Di combustione Di qualsiasi Tipo Di combustibile Iniziano a suonare In maniera Piuttosto assordante E se vi state Assopendo Proprio per Via del monossido Di carbonio Può essere Che vi salvino La vita Quindi questa È una spesa In questo periodo Dell'anno Secondo me Obbligatoria Da farsi Se poi Non suonerà mai Meglio ancora Perché significa Che probabilmente Non avete Problemi di monossido Di carbonio Compratene Più d'uno Perché Sapete Costano circa 8, 10, 15 euro Però non sono niente Confronto A rischio Della vostra vita Ok Amici Io questa qui Ora la vado A smontare Completamente Recupero Diversi pezzi Che mi interessano Come Lo chassis Complessivo Che è una Lamiera Trattata Galvanizzata Zincata Eccetera Quindi potrò Riciclare Potrò recuperare Una lamiera Che mi tornerà utile Per altri fini Recupero Questa griglia Che è una griglia In acciaio inox Non farruggine Resiste bene Alle temperature E non si è sfogliata Nell'arco Di questi 5 anni Nonostante Comunque Un utilizzo Invernale Massiccio Recupero Le ruote E vediamo Se potrò Recuperare L'utilità Anche Delle Tubazioni Dei rubinetti E del gruppo Che dà La scintilla Per l'accensione Della stufa Stessa Cioè ci sono Tante cosine Da poter Recuperare Per lavoretti Di fai da te O eventualmente Come ricambi Per una Nuova stufa Nella quale Magari Allo scadere Della garanzia Magari si rompe Il regolatore Si rompe Un pomello Una ruota Cosa molto Frequente Le ruote Purtroppo Saltano E quindi Insomma In questo modo Avere La possibilità Di sfruttare Fino alla fine Cada una Di Ognuna Di queste Due O più Stufe Ok amici e amiche Di nuovo Io vi lascio Un augurio Per questo periodo Freddo Natale Si appropinqua Iscrivetevi Al canale E poi ci becchiamo Nei video successivi Ciao E a presto